Che giorno è oggi? L'ottavo, signore. Facciamo qualcosa di nuovo. Giaccio, tequila, limone, una buona misura di Quintrò, e voilà, Quintrò Margarita di Original! Ops! Eh sì, da quando Quintrò regala il C.D. Rom con tutte le ricette, il mondo dei cocktail non è più lo stesso. Mix the world, mix Quintrò!